Il mio nome è Dario Kubler, sono il presidente di Asimov e vorrei dare a voi il benvenuto a questo evento di questa sera giusto per rendervi chiaro che oggi è il primo d'aprile ma questo non è un pesce d'aprile è un evento reale organizzato da noi, da Asimov siamo un'associazione italiana che si trova a Comerio sul lago di Varese e vi daremo il benvenuto al Comerio Space Center qui vedete alcuni dei modelli fantastici, realistici che abbiamo costruito, due capsule Apollo due moduli di comando Apollo 16 e Apollo 11 conosci un modello in scala 1.20 del Saturno 5 che abbiamo realizzato per vari eventi questo è l'interno del pannello di controllo che è stato costruito dai nostri amici di Asimov con gli strumenti che funzionano tutti funzionanti compreso il computer e il computer di guida e il disk e abbiamo anche costruito altri abbiamo fatto anche altre, molte altre grandi cose come potete vedere abbiamo creato una replica in scala 1.10 della Starship e che Elon Musk sta cercando di far funzionare in questi giorni da Boca Chica e anche del Super Heavy che è il primo stadio qui vedete il secondo stadio che è la Starship abbiamo portato un pezzo di roccia lunare un paio di anni fa l'abbiamo portato in giro per l'Italia e stiamo inoltre costruendo dei modelli di telescopi questo è il primo cannocchiale di Galileo Galilei che vedete a sinistra mentre sulla destra c'è lo strumento Fraunhofer che usiamo per l'informazione con gli studenti delle scuole poi abbiamo anche costruito una replica della Soyuz e sono sicuro che stasera ne sentiremo parlare molto di questo viaggio fantastico e questa è stata firmata dal nostro amico Paolo Nespoli da Franco Malerba e il nostro buon amico Alfred Worden e questi siamo noi mentre stiamo costruendo la Vastok la replica della Vastok stiamo lavorando in campagna a Varese questo è il vicepresidente Ligio che ci sta lavorando e altri amici che stanno creando questa replica fantastica l'abbiamo già mostrata a una mostra alcuni anni fa e stiamo completando gli interni di questa replica ma qui stasera siamo per parlare del sessantesimo anniversario del primo uomo nello spazio in diretta da Mosca ascolteremo questa sera l'incredibile storia del programma spaziale sovietico direttamente dal nipote del grande costruttore del GLAVNI Constructor il capo costruttore e ingegnere Sergei Karaliov e quindi vorrei prima di tutto ringraziare tutti gli amici che ci stanno aiutando e ci hanno aiutato a realizzare questo evento il gruppo astrofotografico di Varese APAN l'osservatorio Galileo Galilei abbiamo anche un gruppo astronomico tradatese la AAV l'associazione astrofili Alta Valdera l'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta e i nostri amici svizzeri di Swiss Apollo quindi è un aiuto che arriva da tante persone che ci consente di avere questa presentazione e credo che avremo anche anche Paolo Calcidesi dall'osservatorio astronomico della regione Valle d'Aosta non so se si è collegato o meno si sono qui devi comutare all'inglese buonasera se vuoi devi comutare sull'inglese se vuoi un momento Paolo ci sei? no ok ecco stavo ho chiesto a Paolo se voleva dire qualche cosa ma forse no io sono qua lui dice che è qua fatemi vedere io sono qui sono presente c'è qualcosa che non funziona ecco quindi signore e signori vorrei presentarvi il relatore di questa sera amici miei il mio amico il professor Andrei Karoliev Andrei è un chirurgo ortopedico specialista per la Russia e per tutta l'Europa nel trauma sportivo e nella chirurgia artroscopica è un noto professore ma è non solo famoso in Europa per la sua attività professionale ma è estremamente famoso per via di suo nonno il Gravni Constructor Sergei Karoliov benvenuto Andrei tocca ora a te condividere lo schermo e darci una bellissima esplorazione di quello che è successo circa 60 anni fa in Russia sì grazie Dario moltissimo mi vedete mi sentite sì sì grazie mille è un grande piacere l'Italia è un paese molto importante per noi e capirete fra un paio di slide perché è così e sono sicuro che dopo che visto che abbiamo così tanti partecipanti italiani avrò buoni rapporti con tutte le parti d'Italia e anche questa è una bella cosa mi piace molto avere dei rapporti internazionali quindi buonasera a tutti detto in italiano e cercherò adesso di condividere il mio schermo aspettate un attimo sì lo vediamo perfetto mi vedete quindi buonasera a tutti sono quasi esattamente 60 anni dal primo volo umano nello spazio che è avvenuto il 12 aprile 1961 quindi quasi 60 anni fa il capo progettista del programma spaziale russo è mio nonno Sergei Karaliov e cercherò di mandarvi come è passato da un sogno di un bambino alla ricerca spaziale ed è diventato conosciuto e famoso in tutto il mondo forse devi cliccare ecco l'hai fatto quindi grazie mille personalmente a Dario Kubler che che mi ha trovato attraverso i nostri amici nel campo chirurgico comuni e sono contento di vedere qui anche nel pubblico alcuni dei miei amici nel settore chirurgico grazie di essere qui cari colleghi e amici e non solo amici nel settore chirurgico scusa hai ragione Andrei hai ragione alcuni mesi fa è stata una grande idea ma non era stato possibile trovare una data esatta a causa del covid e nessuno sapeva cosa sarebbe successo oggi adesso siete voi siete chiusi io noi siamo aperti io sono appena tornato da una bellissima balletto a San Pietroburgo quindi grazie mille per la tua idea ma devi darmi un click sul computer altrimenti io non posso far andare avanti le slide credo che tu debba cliccare sulla slide sulla presentazione a quel punto puoi usarla ma poi devo fare del video poi come faccio andare indietro forse hai bisogno di cliccare sulle due freccette l'ho trovata l'ho trovato benissimo bene un paio di parole brevi a proposito di me io sono un chirurgo ortopedico lavoro principalmente in chirurgia artroscopica che è una specie di chirurgia spaziale attraverso opercoli molto piccole aperture molto piccole con degli strumenti estremamente lunghi di altissima precisione e faccio chirurgia sportiva mia moglie Elena è un architetto viviamo a Mosca e come sapete abbiamo un figlio che vive con noi ora vive e lavora a Londra lui si chiama Pavel questo sono io nella mia sala di lavoro questo è mio fratello e lui ha il nome di mio nonno lui è un imprenditore e il nostro figlio è una lista di investimenti che lavora appunto come dicevo a Londra e perché l'Italia è così importante per noi perché abbiamo abbiamo dei rapporti molto speciali con l'Italia e spero che i nostri figli e nipoti potranno siano da qualche parte nel pubblico parte della nostra famiglia sta a Milano la nostra figlia Xenia Luca e hanno due bei figli Luca e Don Camilla e a Roma abbiamo un'altra parte della nostra famiglia con Dina Anton Ivan Ivan e Alexandra per cui saluti a tutti loro Italia quindi è molto importante per noi la ricerca spaziale è una cosa veramente molto interessante e i primi cani nello spazio hanno dimostrato che era possibile organizzare un atterraggio con successo ed era possibile farlo quindi anche per gli esseri umani il primo cane è stato Laika è stato un grandissimo risultato Laika non è ritornata ma questo fu il primo il cane nello spazio a dimostrare che era possibile farlo e a quel punto è la domanda che arriva dai bambini lo so che non è possibile adesso fare domande da parte del pubblico ma Belka e Strelka la traduzione dei loro nomi è Scogliato le freccia e sono due bellissimi cani negli anni 60 sono andati nello spazio e sono stati i primi anche a tornare e hanno portato dei cuccioli nuovi messo al mondo dei nuovi cuccioli sono stati dati questi cuccioli al presidente degli Stati Uniti e anche alla regina il primo uomo è stato Yuri Gagarin come ben sapete 60 anni fa e questo è stato un grande evento il 12 di aprile del 1961 e non è stato un viaggio molto lungo nello spazio ma è stato il primissimo il secondo cosmonauta che credo sia importante menzionare è stato Herman Titov che è una persona splendida che alcuni mesi più tardi rispetto a Yuri Gagarin è meno famoso di Gagarin ma è stato molto difficile questo per lui ma ha vissuto una vita molto lunga è stato anche un grande pilota è anche un gentiluomo è stato anche un c'è stata c'è stata anche la grande vittoria del volo di Alexei Leonov con il primo volo alla prima passeggiata spaziale nel 1965 e la prima immagine della faccia nascosta della luna risale a ottobre 1959 ovviamente siamo molto orgogliosi sappiamo che come capo c'era Sergei Karlyov il capo progettista del programma spaziale dell'unione sovietica padre della cosmonautica pratica due volte insegnito del titolo di eroe del lavoro socialista è il più il più grande riconoscimento che potesse essere dato nell'unione sovietica ha vissuto una vita breve è morto quando aveva 59 anni ma ha fatto molto e cercheremo di capire insieme che cosa cosa ha fatto questo sono io con il mio fratello minore Sergei la nostra vita scolastica ovviamente era collegata al fatto che c'erano delle visite spaziali andavamo siamo andati a vedere molti musei abbiamo organizzato il museo nella nostra scuola ed è lì che stiamo andando con questi fiori il primo di settembre siamo questo è il museo spaziale della nostra scuola dove studiavamo e tutta la nostra vita sin dall'inizio è stata collegata allo spazio la ricerca e allo spazio ovviamente siamo molto orgogliosi di capire che il nostro nonno è stato Sergei Karagliov siamo ed è un scienziato russo estremamente importante progettista ingegnere l'uomo ci sono tantissime strade in tante città della Russia che portano il suo nome nell'Unione Sovietica anche se volete e ci sono molti monumenti dedicati a lui c'è una città che porta il suo nome Karagliov e la sua immagine è sempre presente a bordo della stazione spaziale internazionale come immagine di sfondo per tutti gli astronauti e cosmonauti ci sono ci sono molte cose ci sono monete che hanno il suo nome quindi siamo molto orgogliosi di lui che cosa ha fatto e perché è famoso perché cosa è famoso è stato il capo progettista non solo questi sono alcuni non tutti dei suoi risultati è stato il capo progettista del primo grande missile balistico non in grado di fare volo orbitale ma di raggiungere una distanza di migliaia di chilometri è stato progettista del primo missile balistico intercontinentale del primo Sputnik il primo satellite artificiale prima foto della faccia nascosta della luna primo animale allo spazio primo uomo allo spazio il primo volo spaziale di gruppo il primo attacco allo spazio le prime sonde verso Venere e Marte la prima passeggiata spaziale il primo allunaggio e molti altri record mondiali e quindi siamo molto orgogliosi che Elon Musk lo citi spesso e dice che Karolioff è stato uno dei migliori e abbiamo avuto un'occasione molto interessante di avere una chiacchierata di famiglia con Elon Musk ve ne parlerò fra poco ecco non sono sicuro che potete sentire ecco lo faremo senza il sonoro questo era ottobre 4 ottobre 1957 è stato il primissimo satellite artificiale il veicolo russo sputnik che vuol dire satellite oggi lo conoscono tutti in tutto il mondo ed è interessante che per il vaccino russo come ben sapete hanno scelto proprio quel nome sputnik non è così facile cambiare le slide questa è una mappa dell'Europa dell'impero russo l'Europa in confronto all'impero russo non era molto grande all'inizio del XX secolo e l'impero russo copriva quasi tutta l'Eurasia una delle città esattamente in questa città Gitomer questa è Mosca questa è Minsk quindi Europa è l'Europa a sinistra questa è Kiev e qui a ovest c'è Gitomer e questo è il luogo di nascita di Sergei Korolev lui è nato in questa piccola città dell'impero russo nel 1907 con sapete che il calendario ortodosso è leggermente differente e quindi lui è in realtà nato l'ultimo dell'anno il 31 dicembre nel vecchio calendario ed è il 12 gennaio nel nuovo calendario questa è la sua prima fotografia aveva sei mesi sua madre era Maria Mosca Lenko una ragazza molto giovane questo era suo padre Pavel Korolev era così giovane che fu un matrimonio forzato combinato a 17 anni divenne madre a 17 anni quasi 18 era una bellissima donna molto con una grande preparazione scolastica e poi la sua vita con il marito non è stata molto lunga ma è interessante che ancora adesso abbiamo nel nostro museo a casa i suoi guanti che sono quelli mostrati qui e nella sua foto di matrimonio e adesso intendo portarli nel museo di Gito dove è nato ho anche delle altre ho delle cose aggiuntive sullo schermo vedete anche voi questa linea sembra che sia che sembra che tu abbia selezionato lo strumento di disegno non credo non credo di verlo perché non ho questa selezione ma nessun problema devo riavviare sì se vuoi puoi chiudere e ricominciare aspettate un momento ecco adesso è sparito mi sentite? sì e così questa era la famiglia in cui amavano la musica capivano l'importanza dell'educazione scolastica e qui invece la foto il bimbo ha tre anni questa è la madre con i suoi tre fratelli aveva due fratelli e una sorella e lei voleva avere un'educazione quindi non voleva essere semplicemente una casalinga e quindi voleva studiare voleva andare a Kiev e il piccolo Sergei rimaneva con il nonno e la nonna e qui a cinque anni aveva cominciato a iniziare a scrivere questa è la sua prima lettera conosciuta che è dal al caro Vassili da Sergei che era suo zio non c'era una grossa differenza d'età fra loro c'erano 17 anni di differenza rispetto alla madre questo era il fratello minore quindi c'era ancora meno differenza circa dieci anni e quindi erano praticamente grandi amici questo è il suo primo tema scolastico nel 1915 faccio i miei compiti li porto a scuola mio nonno era un vecchio cacciatore viveva nella sua casa c'era un grande prato un aia e c'era un grande giardino c'era molta erba e il voto è eccellente e lo accettano a scuola quando aveva circa quest'età aveva visto per la prima volta i primi voli degli aeroplani in Russia da parte del pilota Sergei Uthoshkin che era famoso all'epoca in Russia e andava alle mostre aeronautiche e sono arrivati anche nella sua città c'erano dei biglietti da comprare è andato a vederli e c'era questo tipo di aereo che oggi sembra molto vecchio con un enorme motore molto rumoroso con molto fumo ha fatto diversi voli intorno al campo poi ha fatto un paio di giri e poi ha atterrato e poi ricarica e partiva e così Sergei ha visto Uthoshkin e ha capito che il suo sogno di bambino era volare e gli aerei e ha cominciato a lavorare e a pensare in questa direzione a quell'epoca la sua famiglia originale è stata distrutta perché suo padre non voleva che sua madre non voleva essere coinvolta per cui non voleva essere non voleva che lei ricevesse un'educazione per cui fu ci fu una separazione e successivamente lei incontrò Ghegray Balanin un ingegnere di grande talento poliglotta e vivevano insieme e erano amici molto stretti e questa è una fotografia del 1912 e a Mosca nel 1962 Sergei Korolev ha cominciato a studiare il volo e gli alianti e gli aeroplani che era un'attività molto popolare nell'Unione Sovietica e quando aveva del tempo libero visitava il club degli alianti costruiva e pilotava lui stesso aveva solo 18 anni quando costruì il suo primo alianti e comprò la carta speciale e qui è il capo del club del club degli alianti a quel punto decide poi nel 1925 di iscriversi all'università diventa studente universitario al Politecnico di Kiev e l'istituto Politecnico è molto famoso oggi si trova a Kiev in Ucraina ma Sergei non non era soddisfatto degli studi che faceva lì in campo nel settore dell'aviazione voleva saperne di più e quindi scoprì che poteva saperne di più trasferendosi a Mosca e la famiglia si trasferì lì è interessante che dopo il suo trasferimento a Mosca non c'entra in realtà nulla con lui ma l'intero reparto dipartimento di aviazione dell'istituto di Kiev cambiò ma ormai la famiglia si era trasferita tutta a Mosca scusate è successo qualche cosa e Sergei si trasferì a Mosca e divenne studente della scuola tecnica superiore di Mosca e portò con sé il suo certificato il suo brevetto di pilota di aliante gli piaceva moltissimo pilotare gli alianti qui ha 21 anni è in grado a questo punto di pilotare di costruire ed è in buoni rapporti con altri appassionati di volo di aviazione questo gruppo di appassionati questa riunione di appassionati di volo a vela in Crimea in Russia hanno una bella montagna che cercherò di mostrarvi e qui lo vedete nella foto scusate ho cercato di chiedere qualcosa ecco con ha 22 anni ma continua a pensare incessantemente al volo e quindi fanno questi se li costruiscono da soli questi veicoli e Coctebel questo aliante che lui stesso ha costruito è in volo e questa è una foto di Alec Antonov futuro capo progettista di tanti aerei come tutti gli anni Han, Ruslan e Maria saranno tutti il risultato del suo dipartimento di costruzioni e Sergei è qui e ad ora volare e pilotare i suoi stessi alianti questa montagna in Crimea era molto interessante perché non avevano abbastanza soldi per avere un aereo non c'erano non c'era un aereo di sufficienza per portare l'aliante in quota per cui cominciavano dalla collina e avevano un flusso d'aria molto specifico che arrivava dal mare per cui potevano decollare dalla collina e l'aliante volava da solo partiva da solo ma l'avvio avveniva con un grande elastico e qui come vedete è il momento di inizio del volo vedete tante persone molto forti che tendono l'elastico e poi quando la forza è sufficiente qualcuno come si dice tagliava il punto fisso di fissaggio sul retro dell'aliante e l'aliante decollava dalla collina per cui era un metodo molto originale ma l'unico modo possibile per farlo all'inizio dello secolo scorso un giorno il giovane Sergei scopre i libri di Konstantin Tsiolkovsky che era un insegnante era un genio assoluto per quel che riguarda la ricerca spaziale aveva scritto dei libri che erano il pensiero filosofico il cosmismo lo chiamava lui e scriveva del futuro della terra e dell'umanità e dimostrava come era possibile costruire delle forme spaziali e come farle volare come raggiungere la prima e seconda velocità cosmica e Sergei capì che era assolutamente era malato di questa cosa dello spazio della ricerca nello spazio è interessante scusate e a quell'epoca lui è studente a 23 anni essendo studente ha un compito di diploma e la sua tesi di diploma è un aereo militare che viene chiamato ESCA 4 Sergei Korolev 4 e il padre il supervisore del suo diploma è Andrei Tupolev che all'epoca era un famoso progettista di aerei che conosceva anche sin dai tempi in cui costruiva degli alianti successivamente divenne ancora più famoso nel campo della progettazione molti aerei durante l'epoca sovietica quasi tutti gli aerei di quell'epoca erano erano avevano la sigla T perché erano costruiti dal Tupolev Tupolev 1934 Tupolev 1954 eccetera e anche la copia del Concorde il Tupolev 144 fu anch'essa un risultato della progettazione dell'ufficio di progettazione di Tupolev Tupolev costruì moltissimi velivoli russi e sovietici compresi quelli che tuttora volano Sergei Karalev si laureò nel 1930 e nei nostri archivi abbiamo una copia della sua laurea ma solo una copia perché la copia originale è stata l'originale è stato confiscato quando fu arrestato nel 1938 e riuscì a ottenere una copia circa vent'anni più tardi nel 1954 questa è l'università tecnica di Mosca all'epoca e oggi Sergei Karalev costruì anche un aliante chiamato Stella Rossa lo vedete a terra e in volo ed è interessante che fu il primo record mondiale collegato al suo nome perché questo aliante riuscì a fare tre giri della morte uno dopo l'altro con il pilota valista Pancionok un uomo molto coraggioso come potete immaginare e il compito era di fare un giro della morte ma ne fece tre e fu fu il primo giorno della morte dopo un decollo dalla collina prima e quindi era ancora prima dei giri della morte fatti con gli aerei e questo fu fatto per la prima volta qui Sergei poi incontrò una giovane donna la incontrò a scuola studiavano insieme il suo nome era Xenia Vincentini anche qui vedete che c'è un collegamento con l'Italia perché il suo bisnonno era un vinicoltore dall'Italia era un italiano molto giovane attivo purtroppo non abbiamo scoperto le sue origini le abbiamo cercate ma finora non ci siamo riusciti perché quando è venuto in Russia è stato battezzato e nel libro dei battesimi c'era scritto che oggi abbiamo l'uomo nuovo Nicolai che ha 26 anni punto non abbiamo nessuna idea di dove provenisse ma era giovane e molto attivo e organizzò un'azienda vinicola in Bessarabia e oggi si chiama Moldavia e quindi esiste tuttora e qui Xenia è una studentessa successivamente diverrà chirurgo ortopedico e ha lavorato per 60 anni ed è la madre di nostra madre Natalia Sergei è pazzo per i razzi dedica tutto il suo tempo libero ai razzi alla costruzione dei razzi e organizza il gruppo Geard che è un gruppo di ingegneri dediti alla ricerca spaziale e quindi costruiscono il primo razzo Geard 09 che vola fino a 400 metri nel 1933 e questo è ufficialmente il primo lancio di razzi in Russia nel mondo e questa è una storia molto interessante ovviamente non c'erano atterraggi morbidi per cui dopo l'atterraggio l'atterraggio fu completamente danneggiato ma il gruppo era molto contento lo vedete qui contenti del volo in poco tempo dopo un paio di mesi dopo organizzarono un altro razzo con una struttura più sofisticata chiamato Geard 10 e qui ha 28 anni è a Mosca nel 1933 è già ben conosciuto per la sua ricerca nel campo missilistico ed è per questo che fu invitato come vice direttore del cosiddetto istituto di ricerca missilistica l'istituto di ricerca missilistica e propulsione missilistica che esiste tuttora siamo nel 1933 lui ha 28 anni e ha già scritto un libro che si chiama il volo dei razzi nella stratosfera e questa è la sua foto di quei tempi nel 1935 il 10 di aprile nasce sua figlia Natascha questa è la sua figlia l'unica sua figlia che crebbe crescerà e poi diventerà nostra madre mia e mio fratello è qui a tre anni e questa è la nostra Dacia la nostra casa di campagna in Russia la chiamiamo Dacia continuo a costruire aerei e alianti e qui vedete che c'è questa collina in Crimea vedete che la geografia di questa collina è costruita in questo modo è strutturata in questo modo per cui c'è sempre questa corrente ascendente che è molto buona per gli alianti e tuttora è un paradiso per tutti quelli che amano fare volo a vela con alianti con i paracadute c'è un monumento sulla collina che è piuttosto conosciuto è un luogo piuttosto conosciuto in Crimea non c'è molto tempo libero ma quando possibile si dedicano ad alcune attività sportive vanno a fare passeggiate vedete che con la famiglia va nella foresta non lontano dalla Dacia a sciare sciare nel bosco a quell'epoca stava già cominciando a lavorare al missile da crociera che era un concetto assolutamente nuovo per tutto il mondo in produzione militare e l'ideologo principale di questa produzione era Tokashevsky Tokashevsky non era vicino a Stalin tanto quanto altre persone del vecchio stile per così dire che pensavano che i cavalli fossero la cosa più importante in termini di potenza militare Tokashevsky fu ucciso in prigione quando fu ucciso interruppero tutto il lavoro al missile da crociera e chissà cosa sarebbe come sarebbe andata la storia della grande guerra patriotica come la chiamiamo noi o seconda guerra mondiale se la missilistica ci fosse stata nell'esercito russo prima dell'invasione da parte di Hitler chissà e qui vedete vedete l'espressione di quest'uomo intelligente orgoglioso di sé purtroppo dopo l'uccisione la fucilazione del suo ex capo inizia il terrore sanguinario di Stalin che lo raggiunge personalmente Stalin uccise quasi tutte le persone famose prima della guerra uccise quattro quinti quasi tutti i generali uccise tutti i maresciali c'era un segno particolare militare che era un riconoscimento particolare militare eroe della unione sovietica stanno gli uccise quasi tutti prima della guerra e sapete dalla storia che c'erano rapporti stretti con Hitler scampiarono delle delegazioni militari eccetera eccetera c'è una storia molto cupa nella storia russa e lui personalmente firmò un elenco di persone che dovevano essere giustiziate e questo immaginate con la birra rossa immaginate migliaia di persone sono presenti in questa lista è stato un uomo terribile ed è stato è stata una parte molto cupa della storia russa e così il giovane Sergei Karilov viene messo anche lui in carcere viene arrestato e questo è il suo questa è la sua firma personale non so in caratteri ma la sua calligrafia è molto pulita questo è il questionario del giugno 1938 lui sta ha solo 35 anni 32 anni un momento e lui viene messo in carcere questo è il suo primo viene messo in questa prigione famosa sin dai tempi si trova al centro quasi al centro di Mosca e rimane lì diversi mesi e cerco di mettere a confronto queste due immagini appena prima dell'arresto e qui al momento dell'arresto non capisce che abbia fatto perché non aveva fatto niente di male ma viene arrestato per nessun motivo e lui invece viene accusato di essere completamente colpevole viene condannato a dieci anni di carcere cinque anni e senza privato di diritti politici per altri cinque anni poi si trasferisce all'edificio principale del KGB che all'epoca si chiamava NKVD il commissiaturato del popolo per gli affari interni l'edificio che esiste ancora che adesso si chiama edificio dell'FSB e quindi molto discutibile anche qui un momento oscuro qui c'è anche una prigione c'è una prigione interna anche questa una parte molto oscura della storia russa qui abbiamo nei nostri archivi documenti della Corte Militare Suprema dell'Unione Sovietica lo condanna a dieci anni di carcere confisco di tutti i suoi averi e cinque anni di privazione dei diritti politici quindi 1938 tre persone cinque minuti dieci anni di condanna e quello fu praticamente quasi la morte fu quasi un ordine di condanna a morte fu trasferito da Mosca e a Novchorkask e passò lì diversi mesi nessuno sapeva dov'era non aveva diritti e fu poi trasferito all'estremo posto in Siberia immaginate Mosca è qui da qualche parte San Pietroburgo Mosca e lì fu trasferito e si trattava di diversi migliaia di chilometri quindi una parte geografica molto difficile della Russia e la Siberia nel fiume Kolima dove si faceva c'era una miniere d'oro e quello era un vero campo di concentramento di Stalin per il popolo di Stalin era chiamato ufficialmente a un campo di lavoro per i nemici del popolo o Gulag se sapete il termine Gulag cercatelo su internet se non lo conoscete e leggerete molte cose a proposito della storia russa e qui siamo in Siberia il fiume Kolima è un campo di concentramento e qui viene estratto l'oro da quel momento in poi lui odia l'oro non riesce a toccarlo cerca di non comprare nulla che sia collegato a loro condizioni terribili di vita le persone venivano mandate lì praticamente era una condanna a morte era quasi impossibile sopravvivere lavorando nella miniera d'oro scrive delle lettere alla corte suprema dell'unione sovietica e chiede di indagare il suo caso di nuovo di riaprirlo perché io sono assolutamente non colpevole scrive sono scritte tante cose qui perché non danno gli davano solo un foglio e doveva scrivere tante cose sullo stesso foglio è una matita sola e quindi cerca di dimostrare che non è colpevole ma questo non era possibile farlo nei campi di concentramento di Stalin e qui nel nostro museo abbiamo la sua tazza personale che si fabbricò lui stesso qui vedete S. Korolev S. Korolev e quando fu liberato molti anni più tardi la portò con sé dal campo di concentramento e ora esiste nel nostro museo domestico e lo abbiamo messo in esposizione in varie occasioni e questo è il ricordo di così tanti anni difficili con lui e qui siamo sempre in Siberia al fiume Colima questa è la nostra madre Natasha riuscì a visitare tutti i luoghi che sono in qualche modo connessi al nome di Sergei Korolev visitò anche questa miniera d'oro e piazzò dei fiori sul monumento che si trova là e ci sono morirono migliaia di persone in questa zona della Russia che veniva usata come gulag e provate a immaginare di essere messi in carcere quando avete 33 anni e venite liberati quando ne avete 40 senza alcun motivo per niente sette anni della vostra vita portati via dal sadico Stalin ovviamente la madre di Sergei Maria ha iniziato sin dal primo momento a lottare per la sua liberazione per tirarlo fuori dal gulag e ha cercato con lettere e telegrammi abbiamo nei nostri archivi anche un telegramma ma capite che cosa vuol dire telegramma da Mosca a Kremlin a Stalin quali speranze ci possano essere che che questo non voglio chiamarlo il signore ma questo uomo possa leggerlo ma lei continua a scrivere in aggiunta alla mia lettera del liberi mio figlio è un giovane ingegnere di talento potrebbe lavorare per la difesa specialista in razzi la supplico e lei mi ricordo molto bene che lei mi raccontò che lei morì quando aveva 94 anni io ne avevo quasi 14 mi ricordo chiaramente che lei mi disse che aspettava 4 o 5 ore semplicemente per poter mandare questi telegrammi da qualche parte Natasha era piccola di statura e era piccola e qui la vedete con mia nonna e quindi Maria la madre di Sergei decisa anche lei di cercare di trovare delle persone che potevano forse aiutare a liberare il suo unico figlio e una di queste persone era Mikhail Gromov che era un pilota molto famoso dell'esplodazione polare l'intero paese era orgoglioso di lui giovane coraggioso molto alto molto intelligente amatissimo dal governo russo e da Stalin purtroppo anche da purtroppo anche da Stalin e mio bisnonna lo trovò e gli gli chiese di scrivere le lettere a proposito di Sergei e questa è una copia della sua lettera al tribunale alla Corte Suprema di riesaminare il caso di Sergei Karoliev l'altra persona che si adoperò moltissimo per la liberazione di Sergei Karoliev dal carcere e furono tutti collegati perché erano tutti piloti si conoscevano da quell'epoca di pilotaggio di alianti condivisa insieme ecco un'altra persona era Valentina Grisavudova anche lei pilota molto famosa eroe dell'Unione Sovietica una bellissima donna entrambi insieme a Gromov successivamente furono spesso ospiti di casa nostra ricordo spesso molto e li ricordo molto nitidamente e anche lei raccontava il pericolo che comportava scrivere delle lettere di richiesta di verificare il caso di Sergei Karoliev non potevano scrivere che era assolutamente innocente potevano semplicemente chiedere di riesaminare il caso forse non è così colpevole come pensate e forse questo ha aiutato un po' Sergei Fu questa questa sono scritte del Presidente della Corte Suprema e chiede di verificare la correttezza dell'incarcerazione di Karoliev e in un qualche modo tutto questo ha aiutato ma non è riuscito non è stato sufficiente a liberare completamente Sergei Karoliev fu semplicemente trasferito dal carcere duro in Siberia al carcere a Mosca all'ufficio speciale di costruzione di un altro prigioniere che era Andrei Tupolev anche lui nonostante il suo famoso lavoro nel settore dell'aviazione fu anche lui incarcerato ed era in carcere in quel momento lui era stato dichiarato colpevole e avevano avuto delle difficoltà all'inizio della guerra non c'erano aeree sufficienti e lo trovarono in carcere e gli fu ordinato di organizzare la costruzione speciale anzi l'ufficio di costruzione speciale dal carcere e nominò tutte le persone che conosceva quindi anche Sergei Karoliev che era il padre era il suo supervisore per il progetto diploma e quindi lo ritrovarono si trovavano Sergei Karoliev lo portarono a Mosca e ai piani più alti di questo edificio che esiste tuttora su Radio Street c'è questo ufficio speciale per le costruzioni speciali è una specie di carcere molto light molto leggero si tratta di persone armate che non ti fanno uscire le guardie armate non c'è cibo a sufficienza si dorme dentro ma perlomeno non sono non venivano picchiati andando a questo ufficio di costruzione speciali Sergei ha già trascorso due anni di carcere e in questo ufficio speciale ricevono l'ordine di costruire degli aerei e lavorano anche al cosiddetto aereo razzo mettono un motore a razzo su un aereo normale cercano di ottenere la massima velocità possibile ma non era possibile fare tutto questo perché per via della costruzione dell'epoca c'è il formato del flutter le ali cominciano a vibrare e quindi non era possibile ma fu un grande passo in avanti e solo a luglio del 1944 ci fu fu liberato perché era già come avete capito molto conosciuto per i suoi razzi la guerra era finita era quasi finita e i russi sapevano che che probabilmente avrebbero ottenuto dei razzi dai tedeschi e Sergei fu trasferito a un'altra quasi carcere un ufficio di costruzione a Kazan in Tatarstan e questa è la sua prima lettera a sua madre e alla moglie dopo la liberazione dal carcere e non sentivo prima di ora tutta la grazia di ciò che ci circonda ma ora so qual è il vero costo il vero prezzo di un raggio di sole di un alito di un alito di aria fresca o di una crosta di pane secco è una lettera molto poetica devo dire Sergei Kolev guardate i suoi occhi veramente non capisce perché è stato incarcerato per sette anni è interessante che nei nostri archivi abbiamo anche degli schizzi della costruzione dei razzi fatte da lui a Kazan nel 1944 la guerra non è ancora finita non c'è ancora il giorno della vittoria ma lui sta pensando ai razzi e a come mandarli nello spazio 1944 viene liberato dalla carcere e viene mandato immediatamente in Germania nel 1945 questo è in realtà un errore viene mandato in Germania dove riceve le mostrine da subcolonnello con due stelle viene mandato nella Germania sconfitta per investigare i razzi V2 ed è molto interessante che uno degli ufficiali americani gli dice per essere un sottocolonnello lei ha una fronte molto alta e poi gli sostituiranno le mostrine con quelle da colonnello con tre stelle e qui vedete Sergei Korolev con un motore di una V2 a Penemünde in Germania a settembre del 1945 e alcuni mesi più tardi Natasha e la madre Xenia lo raggiungono a Penemünde e qui vedete Natasha anche qui vicino a parti distrutte di una V2 Sergei Korolev scrive all'ufficio centrale del procuratore militare dieci anni dopo la vittoria nel 1955 chiedo all'ufficio del procuratore militare di togliere tutte le accuse dal mio nome e solo nel 1957 riceve dalla Corte Suprema militare dell'Unione Sovietica una dichiarazione di non colpevolezza immaginate sei mesi meno di sei mesi prima del lancio del primo Sputnik 19 anni dopo il suo arresto 13 anni dopo la liberazione e mancano soli quattro anni prima del volo di Gagarin e l'Unione Sovietica il governo sovietico proclama finalmente che non è colpevole non dice scusate scusa non sei colpevole dice semplicemente non sei colpevole ad agosto del 1947 diventa il progettista del primo grande missile balistico parte dal centro della Russia e a terra in Kamchatka nella penisola di Kamchatka la penisola di Kamchatka nel 1957 il primo razzo balistico intercontinentale che diventa parte dello scudo nucleare che è la risposta dopo il bombardamento americano del Giappone 4 ottobre 1957 il l'autorità di Sergei Karaleov a questo punto è molto grande tutti sanno che è l'uomo più abile nel settore della ricerca spaziale ed è il capo progettista anche del primo satellite artificiale del 4 ottobre 1957 questo fu un grandissimo evento come sapete c'era un trasmettitore radio a bordo che mandava bip 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 e tutti i radioamatori a onde corte captavano questo segnale dello spazio e fu una stupefacente vittoria della tecnologia russa e andrei sì e ce l'abbiamo lo abbiamo recuperato dallo spazio grazie è la prima foto della faccia nascosta della luna che è collegata a una bella storia che vi racconterò un giorno o l'altro a proposito di un venditore di vini che promise mille bottiglie di vino a chi avrebbe visto la faccia nascosta della luna Karaleov ce la fece il più grande cratere sulla faccia nascosta della luna si chiama Karaleov ecco lo vedete qui e questa è la prima immagine che fu scattata nel 1959 e anche i primi animali nello spazio un altro grande risultato c'erano 61 anni fa queste due cannolini dovevano dovevano investigare se era possibile per un uomo lavorare nello spazio e tornare indietro sano e salvo fu interessante alcuni anni più tardi anche il primo atterraggio morbido sulla luna la prima trasmissione video dalla superficie della luna nell'11 di gennaio del 1960 fu fondato il primo gruppo di cosmonauti erano i migliori piloti di caccia a reazione perché era necessario avere reazioni rapide pensiero decisioni rapide una grande capacità di apprendimento e soprattutto un grande potenziale intellettivo e soprattutto un limite di altezza di 1,75 m perché non c'era molto spazio nella capsula questo è Khrushchev è così il paese fu estremamente ovviamente estremamente orgoglioso di Gagarin a Mosca c'è Mosca c'è un monumento che è il più alto del mondo dedicato a una figura realmente esistente con le proporzioni anatomiche normali e il volto reale della persona dedicato a Gagarin e ovviamente tutti i giornali furono dedicati a questo evento e quando Gagarin arrivò a Mosca due giorni più tardi il 14 di aprile milioni di persone si riversarono per le strade tutte le persone smisero di lavorare e andarono nelle strade con i cartelli fantastico incredibile lo spazio è nostro Yuri sei un grande Mosca eccetera eccetera fu un momento stupefacente forse non lo trovate facilmente ma fu fu un incontro assolutamente straordinario a Mosca si incontrarono a Vnukovo all'aeroporto poi si trasferirono alla piazza rossa in auto scoperte c'era il segretario generale Khrushchev nella prima automobile poi c'era Gagarin e tutte le persone mandavano loro dei fiori e l'altra storia riguarda la prima donna nello spazio Valentina Tereshkova ufficialmente era una tessitrice volevano delle volevano delle donne nello spazio ufficialmente era della classe operaia ma questo non era completamente vero in realtà era il leader locale del partito comunista della Comsomol e non non si trovò molto bene ebbe dei propri di grossi problemi durante il volo Karaljoff era molto deluso molto arrabbiato è tutto scritto nelle sue memorie nelle memorie del suo vice capo progettista e lui disse mai più donne nello spazio fu un tabù per quasi vent'anni fino non voglio dire niente di cattivo però fu andò così e lei propose personalmente di aggiungere altri due termini due periodi di presidenza alla presidenza per la presidenza della federazione russa per cui per molti anni non ci furono donne nello spazio da parte dei russi Karaljoff quindi fece molte cose per la prima volta nella storia non fu ovviamente da solo ma ci furono tanti colleghi e altre persone che lo sostenono nella sua ricerca lui era il capo progettista però quindi ci fu per esempio il primo volo di gruppo due astronavi simultanee collegate via radio primo volo di più cosmonauti in una singola nave il primo attracco nello spazio il primo trasferimento di cosmonauti da un'astronave a un'altra partono con un'astronave si attraccano e atterrano dentro un'altra le prime astronavi scientifiche le prime sonde verso la luna venere marte ci fu anche un grande primato una grande vittoria il primo uomo a effettuare un'escursione nello spazio una passeggiata spaziale quando Alekhei e Alekhei Leonov scusate Leonov un uomo straordinario estremamente coraggioso molto abile e lui uscì dal suo veicolo spaziale per fare la primissima passeggiata spaziale con delle grandissime difficoltà nel rientro nella capsula e poi riuscì ad atterrare e questo è il nostro figlio Pavel con Alekhei Leonov e questa è una foto successiva lui era una persona squisita di grandissimo talento splendida un artista bravissimo questo è un dipinto che ha fatto lui stesso si è ritratto come nello spazio durante il volo originale veramente molto coraggioso c'è un bel film di cui vi racconterò si chiama Il primo che vi propongo di vedere e lo potete sicuramente vedere su internet e qui ci sono di nuovo folle di persone per strada quando quando Alexey Leonov fa questo volo purtroppo Sergei Koroyev muore durante un intervento chirurgico perché aveva dei problemi molto difficili che non erano stati diagnosticati precedentemente c'era un piccolo intervento chirurgico che era stato pianificato ma scoprirono che era necessario invece un intervento più importante e lui aveva dei problemi anatomici medici perché durante il periodo trascorso in prigione aveva rotto la mandibola quindi non poteva aprire bene la bocca e il collo era stato parzialmente danneggiato per cui non poteva estendere il collo per cui in tutte le immagini è per questo che ha questa posizione questa postura quando fu necessario intubarlo non fu possibile inserire il tubo nel collo perché non spalancava adeguatamente la bocca fu terribile e morì durante l'intervento chirurgico l'annuncio ufficiale della sua morte fu diversi giorni più tardi perché tutti erano assolutamente sotto shock per la sua morte era un progettista ben conosciuto tutti politici e molte persone erano a conoscenza del suo ruolo e il suo rito funebre fu sapolto nel muro del cremlino fu funzionario di maggior livello molti funzionari erano lì presenti era difficile che ci fossero altri più più di grado più alto di loro e qui c'erano i membri del partito comunista parteciparono alla cerimonia io ero un bambino molto piccolo e qui c'erano tutti i cosmonauti che hanno partecipato alla cerimonia ufficiali e lui è stato messo nel muro del cremlino oggi il muro del cremlino è così e ogni anno noi ci richiamo a portare fiori in varie occasioni a sua madre che gli sopravvisse per circa 14 anni Maria e sua figlia sua figlia Natasha mia madre e io e qui c'è mio fratello Sergei che è nato più tardi sua madre Maria visse appunto 15 anni ulteriormente fu la principale biografa di Karaliov divulgatrice di cosmonautica la figlia Natalia nostra madre è l'altra biografa principale di Sergei e qui la vedete nel nostro museo di casa l'accademico Sergei Karaliov fondatore della cosmonautica pratica genio della progettazione ingegnere straordinario manager di grande talento ha dedicato tutta la sua vita a un sogno dell'infanzia ha lasciato un segno luminoso nella storia dell'umanità e per sempre nella nostra nella storia del mondo e noi siamo estremamente orgogliosi di avere il nome della sua famiglia lui aveva dei piani precisi per il futuro voleva volare verso la luna voleva atterrare sulla luna fare una stazione orbitale vicino alla terra fare delle passeggiate spaziali irregolari andare verso Marte e siamo molto contenti che c'è una persona oggi nel mondo che si chiama Elon Musk che è un degno successore del lavoro di Sergei Karaliov e siamo orgogliosi di quello che lui sta facendo e c'è una storia interessante stavamo guardando con i nostri amici il lancio della Crew Dragon 1 il 31 maggio 2020 e mia moglie disse dobbiamo congratularci con Elon Musk ma come facciamo congratularci con le milioni di persone vogliono mandare le congratulazioni no no scriviamo dai proviamo è importante e così io scrissi due lettere una a una persona russa che vive nella Silicon Valley e che conosce Elon Musk ha detto forse puoi passargli questa lettera e guarda non è possibile mi disse e poi scrissi una lettera alla NASA la NASA disse no ma sei pazzo milioni di persone che gli stanno mandando le congratulazioni e improvvisamente due giorni più tardi una voce molto sorprendente dalla NASA mi chiamò e mi disse sai abbiamo trasferito la tua lettera a Elon Musk e lui ha detto che sarà molto contento di parlare con te e così ci siamo messi d'accordo su una data per questa conversazione e poi ed è successo questo Elon ciao grazie mille noi siamo la famiglia di Sergei Karalioff io sono Andrei il nipote e qui c'è mia moglie e sapete che il tempo nella scaletta sono 5 minuti per volta nella scaletta di Elon Musk lo sappiamo bene e quando ho chiesto alla sua segretaria quanto tempo abbiamo per parlare con Elon e lei ha detto 20 minuti e noi siamo stati veramente molto sorpresi di tutto questo e abbiamo trascorso 20 minuti assolutamente a fare una chiacchierata di famiglia con Elon Musk è stato veramente molto bello è un partner molto amabile fa tante battute ti lascia parlare poi parla lui e ci ha raccontato che è molto orgoglioso del nome di Karalioff e di molto del suo lavoro si basa sul lavoro di Karalioff e ci ha chiesto se sapevamo qual era il nome del dello scafo qual è il nome ecco ecco la sala principale di SpaceX si chiama sala Karalioff quella dove si radunano tutti si chiama Karalioff Hall e questo è un è un segnale molto interessante di grande orgoglio per noi e poi siamo andati a dormire perché era sera tardi per noi e invece era mezzogiorno dalle sue parti la mattina dopo abbiamo ricevuto centinaia ma centinaia di Whatsapp SMS telefonate perché durante la notte lui aveva twittato è il potere della comunicazione internazionale ho parlato con la famiglia di Karalioff oggi lui è stato uno dei migliori e l'ha scritto in ucraino e anche in russo il nome di Karalioff e io ho dato il giorno dopo ho dato tantissime centinaia di interviste perché tutti i giornali e televisioni volevano avevano visto questa pubblicazione questo tweet e questo è stato assolutamente stupefacente ed è interessante che il giorno successivo stavo facendo un giro in bicicletta con la mia clinica e quindi ho fatto tutte le interviste vestito da ciclista i ricordi di Sergei Karalioff sono grandi c'è una città che si chiama Karalioff che non è lontana da Mosca dove c'è una grande stella all'ingresso della città ci sono monumenti dedicati a lui qui mi vedete con mio figlio Pavel ci sono nei suoi monumenti ci sono navi scientifiche ci sono navi cisterna ci sono aerei ci sono aerei della compagnia aerea civile aeroflot c'è il più grande cratere sulla faccia nascosta della luna che porta il suo nome come vi ho detto uno dei più grandi crateri su Marte annunciato dall'agenzia spaziale con il nome di non ne sapevamo nulla ma ha circa 70 km di diametro e c'è tanta neve per cui se avete problemi a sciare basta che ce lo chiediate abbiamo un posto speciale non è molto accessibile in questo momento ma ci sono molti monumenti in quasi tutte le grandi città della Russia dedicati a lui ci sono strade che portano il suo nome e monumenti dedicati a lui e musei dedicati alla sua vita il 12 di aprile noi siamo molto orgogliosi di dire che è il giorno internazionale della cosmonautica il giorno del volo di Gagarin è uno delle giorni di vacanza preferiti uno dei tre preferiti giorni di vacanza in Russia ovviamente il primo è il primo gennaio il 9 maggio è il secondo il giorno della vittoria il giorno della cosmonautica il 12 di aprile è il terzo e credetemi quando è il 12 di aprile il giorno della cosmonautica noi riceviamo così tanti messaggi di auguri come riceviamo a Capodanno ci sono anche molti bambini che portano fiori ai suoi monumenti e ai suoi ai cartelli in suo ricordo e ogni anno il 12 di gennaio il suo compleanno centinaia di persone mettono fiori sui suoi monumenti e sulle targhe commemorative nonostante il fatto che faccia molto freddo credetemi il 12 di gennaio di solito fa molto freddo in questo paese c'è la casa museo di Sergei Korolev a Gitomer in Ucraina dove è nato e c'è anche il museo spaziale Korolev ed è il visito il museo maggiormente visitato in Ucraina e tutti gli studenti tutti i bambini che vanno a scuola devono passare devono visitare questo museo è bello ci andremo fra un paio di giorni e vedremo come funziona e poi c'è la casa museo privata di Sergei Korolev a Mosca dove ha vissuto gli ultimi otto anni della sua vita è anche qui molto bello visitarlo c'è anche un museo spaziale fantastico a 180 km da Mosca a Kaluga la città dove Konstantin Tsiolkovsky padre della cosmonautica aveva vissuto e il primo edificio di questo museo è interessante per molte cose prima di tutto è stato costruito dall'architetto più famoso in Russia di quei tempi Barkim la seconda cosa è che si tratta del primo edificio costruito specificamente nel mondo come museo spaziale terzo motivo il nostro nonno partecipò molto attivamente all'organizzazione della costruzione ed è molto interessante che tutti gli oggetti nel museo non sono copie sono originali perché per ogni volo spaziale c'erano sempre due esemplari assolutamente identici uno volava l'altro andava nel museo per cui sono dettagli tutti originali sono veicoli spaziali originali molto interessante il museo esiste tuttora e adesso stanno costruendo un secondo padiglione che verrà aperto il 12 di aprile anche qui siamo stati invitati ma credo che i festeggiamenti ufficiali saranno qui a Mosca a Mosca c'è un bellissimo museo spaziale sotto questo razzo che vola questo è il più grande monumento in titanio puro del mondo immaginate che è puro titanio dall'inizio fino alla cima a quell'epoca l'Unione Sovietica non credo non non vadava a spese e quindi tutto il titanio fu messo lì e non c'era più abbastanza di titanio per i razzi ed è comunque un bellissimo museo e c'è un monumento nuovo vicino alla torre televisiva dedicato a Karoliov in uno dei posti più belli di Mosca e il museo è molto bello anche qui ci sono molti originali e molte repliche e ci vanno molti studenti c'è anche un padiglione spaziale all'esposizione nazionale a Mosca c'è una copia di un razzo vicino all'ingresso con un'esposizione molto bella all'interno Baikonur che ora si trova in un altro paese in Kazakistan ma è comunque un monumento a Sergei Karoliev ossia è il luogo di partenza di molti viaggi spaziali internazionali e spero che continuerà a essere operativo per molti anni perché c'è uno scambio di astronauti e cosmonauti e voleranno e partiranno ancora da qui Sergei Karoliov fu nominato due volte per il premio Nobel non molti lo sanno per il primo satellite e per aver messo il primo uomo nello spazio per il primo volo umano nello spazio di Yuri Gagarin ma non gli fu assegnato perché nonostante la richiesta del comitato Nobel per via della sua posizione assolutamente segreta nell'Unione Sovietica Khrushchev che era il capo del paese a quell'epoca non voleva far dare questa vittoria a nessun altro riteneva che che fosse una sua vittoria di lui le idee di Sergei Karoliev vivono nascono nuovi veicoli spaziali in orbita c'è la stazione spaziale internazionale ci sono passeggiate spaziali di uomini e donne si fanno esperimenti scientifici c'è il turismo spaziale lui ne parlava negli anni 50 era quasi sembrava una barzelletta noi sentivamo queste cose diciamo è una barzelletta invece no adesso funziona senza i successi di Karoliev non sarebbe possibile immaginare la vita di oggi l'internet i telefonini l'esplorazione permanente dello spazio la ricerca permanente scientifica nello spazio tutto questo sono i migliori monumenti dedicati a lui c'è al museo della scienza di Londra c'è stata una mostra che si chiama è rimasta lì per otto mesi perché c'era tanta gente che voleva vederla e noi ci siamo stati diverse volte ovviamente con il nostro figlio Pavel che all'epoca viveva a Londra mia moglie Elena e la mostra si chiamava Cosmonauts e primi nello spazio e questo per i russi che ci stanno ascoltando è bello vedere l'intervista televisiva con il nostro figlio e come vi dicevo questa è la mia intervista a proposito del fatto di aver parlato con Elon Musk io sono vestito da ciclista perché era una giornata di ciclismo aziendale e sempre per chi ci ascolta e conosce il russo vi consiglio di ascoltare l'audiolibro Litres Sergei Karelev è mio padre e poi c'è un film che si chiama Space Race della BBC è un film molto bello fatto circa 15 anni fa che parla della corsa allo spazio credo siano 8 o 9 parti del film mi piace moltissimo molto sincero decisamente abbiamo anche un procuratevi l'applicazione della NASA mettetelo sul vostro telefono mostra tantissime cose non solo dal lato americano ma anche dal lato russo cercate anche l'account non sono fan di twitter ma cercate l'account instagram di Roscosmos anche quello è molto interessante poi cercate il film che si chiama Gagarin lo troverete su youtube il vero Gagarin si intitola è diviso in due parti e hanno i sottotitoli in inglese per cui potete capirlo abbastanza facilmente cercate anche certamente Collima un altro film che è anch'esso disponibile su youtube ha un numero elevatissimo di visualizzazione 24 milioni nella storia russa di youtube è il è il più visto su youtube nella storia qui lei non è mia madre non è la vedete qui non è una grande fan di youtube ma lei ha detto che ha partecipato a un film interessante e poi abbiamo scoperto che lei era in questo film Collima per cui trovatelo è molto interessante il luogo di nascita delle nostre paure capirete molte cose e qui c'è la voce originale di Sergei Korolev dopo durante il lancio di Gagarin di Gagarin Grazie a tutti. E bisognava essere molto coraggiosi per lanciare nello spazio questo razzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.